Poni un quarto di bicchiere di acqua e lo zucchero in una casseruola a fondo pesante, porta ebollizione, porta... e ciao! Stelline di limone e arancia candite. Stasera le faccio tranquillamente. Ieri ho fatto il semifreddo ai marroni. Ogni giorno uno io sto a casa. Anche voi dovete stare a casa. Stiamo tutti a casa. Oh, stiamo a casa, cuciniamo tranquilli. E poi le stelline di limone e arancia candite naturalmente me le mangio davanti a un bel film o davanti a una bella serie. Ce ne abbiamo di giorni e di tempo. Stiamo a casa, tranquilli. Io sto a casa. State a casa anche voi. Anche voi a casa, mi raccomando. Scusate, mescolo bene con una cucchiaia, fai bollire, cuoci fino a...